ok lorenzo buongiorno 30 charlie alfa 344 qui a 1 charlie india 048 operatore paolo dalla provincia di pavia ti ascolto molto bene 558 anche 59 roger ok ok lorenzo sì qui all'operatore paolo è paolo come papa alfa oscar lima oscar si c'è un po di qsb il segnale sale scende comunque sono riuscito a copiarti abbastanza bene roger il paolo è stato anch'io ti ho copiato abbastanza bene il tuo rapporto adesso il 57 l'ultimo rapporto e io sono in alicante a 50 km di distanza da alicante a ovest giusto in terra su un alto piano 550 metri paolo a te in cuore del vita benissimo lorenzo qui a 1 charlie india 048 operatore paolo io sono 12 12 chilometri a sud di pavia proprio vicino al po ok è copiato che sei italiano niente mi dirai così di che di che zona sei originario roger sì paolo io sono originario bresciano sono fuori da vent'anni sono fuori da vent'anni però adesso mi origine bresciana ti ho sentito bene sembra attento insomma le mie condizioni l'ultimo rapporto tu 59 la propagazione va bene arrivi alto arrivi 59 figurati e niente le mie condizioni lavoro è un tempo che mi mi dispiace un 10 o 450 è normale come dice un microfono normale e una cubica un elemento è una quadro un elemento verticale e niente a te il micro uno sarà di india 048 paolo